Un attore di Mare Fuori ha annunciato un'importantissima novità che vede protagonista lui e la sua dolce metà. Non si tratta di Massimiliano Cagliazzo ed Elena D'Amario, di chi stiamo parlando? Mare Fuori è la serie cult del momento, un racconto che non smette di appassionare i telespettatori. Siamo oggi arrivati alle riprese della quinta stagione, tra novità e abbandoni significativi. Nel corso del tempo molti protagonisti amatissimi hanno deciso di lasciare la serie, una notizia che ha reso tutti i fan molto tristi. Come si farà a seguire i nuovi episodi senza Cagliazzo e Paolillo? Sono loro due i principali abbandoni più sofferti, dopo Giacomo Giorgio e Nicola Maupas, è arrivata quest'ulteriore decisione a creare scompiglio nella serie. Sono stati però inseriti dei nuovi volti, riusciranno a mantenere alta l'attenzione del pubblico? Fortunatamente alcuni dei protagonisti storici hanno confermato la loro presenza. Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Maria Esposito, e tanti altri ci saranno. Mare fuori, attore annuncia una dolcissima novità con la sua fidanzata, di chi si tratta? Anche Alessandro Orrei, l'attore che interpreta Mimmo, ci sarà nella quinta stagione. Il suo ruolo è stato spesso protagonista di alcuni colpi di scena sconvolgenti. Ricordate la morte di Hopi Rucchio, o la violenza subita dalla moglie del comandate? In entrambe le scene Mimmo è stato il centro assoluto, due momenti che hanno richiesto al giovane attore una preparazione intensa, curata nei minimi dettagli. Proprio Alessandro ha annunciato una novità dolcissima insieme alla sua fidanzata Giulia. La coppia ha preso casa a Roma, la loro relazione prosegue a gonfie vele. L'attore è abbastanza riservato in merito alla sua vita personale, spesso e volentieri posta sui social eventi e collaborazioni professionali. Tutto ciò che non richiede i riflettori puntati, è ben custodito. Ma quanto è difficile preservare una relazione quando si è così seguiti dai fan? Dedicare del tempo alla propria fidanzata è fondamentale per coltivare al meglio il rapporto. Diventa complicato dal momento in cui il pubblico è continuamente sull'attenti ad ogni passo. Un esempio potrebbe essere la storia d'amore tra Massimiliano Cagliazzo ed Elena Di Amario. I due si sono innamorati lo scorso anno e l'annuncio ha completamente fatto impazzire i fan. Attualmente le cose non vanno benissimo. Sarà stata la troppa esposizione a rovinare ogni cosa? Alessandro è fidanzato con una ragazza che non appartiene a questo mondo. Questo è di sicuro un aspetto molto importante per poter preservare una storia d'amore. Giulia è orgogliosissima del suo fidanzato. Che risvolto avrà Mimmo in mare fuori 5? Sono tante le aspettative su questa nuova stagione, e sono altrettanto molte le preoccupazioni su tutti questi cambiamenti. Saranno dannosi per la storia? Non ci resta che attendere la fine delle riprese, e la messa in onda delle puntate per scoprirlo.